Vangelo del 27 novembre 2015 Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola Osservate la pianta di figo e tutti gli alberi Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno Parola del Signore